Allora, ciao Samuel, Alessio Torzuoli per ACPerugia.com, intanto complimenti per la vittoria fondamentale per la classifica del Perugia e complimenti per il tuo gol, il terzo, che ha sbloccato comunque una partita che in primo tempo si è dimostrata particolarmente complicata. Grazie, intanto. Siamo felici perché era molto difficile e speriamo che era importante per noi prendere punti su questo campo difficile. Siamo stati bravi perché era una partita da combattimento, insomma, ha lavorato bene, ma abbiamo messo in campo tutte le nostre armi e ci guidiamo questo risultato. Sei d'accordo che è come se fossero state due partite diverse? Nel primo tempo una partita molto maschia, molto bloccata, il Perugia non è riuscito a sviluppare il proprio gioco, il cittadale paradossalmente ha avuto più occasioni del Perugia, poi nel secondo tempo il Perugia ha sfruttato per la prima volta i propri episodi a favore. Lo sapevamo, era una partita così. Noi con il Mist abbiamo lavorato bene tutta settimana, sapevamo che loro era una squadra aggressiva che già ha sulle seconde palle, ma abbiamo fatto anche noi il nostro gioco. Il primo tempo è stato equilibrato, ma sapevamo che portando alla lunga solo 0-0, prima o poi l'episodio sarebbe arrivato. La squadra ha risposto con grande generosità, bene anche a mio avviso la prova della difesa, poi nel secondo tempo naturalmente anche grazie al risultato che si era messo un po' al sicuro sono arrivati anche più palloni giocabili. Noi proviamo sempre così, partiamo dalla difesa, partiamo dalla grande pressione sugli avversari per ripartire i più alti possibili. Abbiamo una difesa forte con giocatori molto forti e tanto ce le godiamo perché anche oggi hanno fatto una grande partita e poi arrivano le palle davanti meglio, vedi che le posso sfruttare. Certo, le altre hanno risposto in particolare il Venezia e il Cosenza, hanno vinto anche loro in maniera un po' inaspettata, poi Benevento, Spal, Brescia invece hanno perso, quindi comunque sarà una lotta serrata fino all'ultimo minuto della partita in casa contro il Benevento. Ma questo lo sapevamo anche prima in questa partita, noi come dice il Mist dobbiamo guardare noi stessi, non perdiamo mai la nostra identità e andiamo avanti. Ora ci sarà il turno di riposo per la Nazionale e poi ci sarà il triplo turno casalingo da sfruttare e recupero contro la Regina compreso, quindi sicuramente il Perugia lì si giocherà molto delle sue chance. Vabbè, soprattutto in casa noi dobbiamo fare la cosa in più perché noi con i nostri tifosi dobbiamo fare di più in casa. L'unica nota dolente, forse troppe ammunizioni, questo magari è un indice comunque di grande agonismo che la squadra mette sempre, non tanto, interventi comunque tattici, alcuni non particolarmente fallosi, diciamo, sono comunque cose da mettere in conto. Assuramente una partita maschile come questa, le ammunizioni ci stanno, è importante se stai bravi a non farci buttare fuori. Senti, chiudiamo con un messaggio per i tifosi che comunque ci stanno ascoltando, insomma comunque sono in apprezzione un po' per le sorti della nostra squadra. Che cosa vogliamo dire loro? Vabbè, innanzitutto stai sempre vicini come hanno fatto, sempre di più, perché la loro spinta per noi è un buon raggiunto. E a chi dedichi il gol? Vabbè, a mia moglie e ai miei figli. Perfetto, ti ringrazio. Ciao, Sabi. Ciao. Ciao.